Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, sono TonyGamer, oggi vi spiego come trovare tutti i globi, i pietre, sbloccare tutte le pietre da forciatura per potenziare le nostre armi, quindi seguitemi in questo lunghissimo viaggio, però velocizzerò il video per non farvi annoiare come sto facendo adesso. E quindi le pietre ci serviranno per potenziare le armi più potenti del gioco, ad esempio quella che ho in mano, la rossa, più l'altra che ho nella mano sinistra, sì ne ho un'altra, sono potentissime, tutte e due di livello 10. Adesso vi sto portando qua sotto in questa galleria per trovare il primo globo per sbloccare una delle pietre da forciatura bianche, però non vi preoccupate perché in questo video io vi mostro come trovare tutti i globi, quindi per sbloccare tutte le pietre. Noi sappiamo che le pietre da forciatura, quelle bianche, arrivano fino al livello 9 dai vecchi, là alla tavola rotonda, quindi possiamo comprarci tutte le pietre fino al livello 9. Quindi qui sconfiggerete il boss e vi darà il globo. Un altro posto dove cercare è qui, alla capitale, quindi è un posto molto semplice, mi sono divertito un sacco, quindi dobbiamo scendere qua sotto in quest'altra galleria, ai soborghi della capitale. Adesso vi faccio vedere il posto, proprio qua, proprio qua, dove sta questo grande lago, dove stanno tutti questi schifosi bozzoli che sputano veleno, proprio qui. Mentre sponate qui alla capitale, scendete qua sotto e proseguite più avanti. Qui dovete colpire la parete perché è invisibile. No, non è che è invisibile, è coperta. E qui troverete il globo. Qui, nessun boss sta a sconfiggere, però se volete sconfiggere un boss lo trovate qui dietro, quindi prendete l'ascensore e scendete. Tutto qua. Un attimo che mi libero di questo parassite schifoso. Grazie. Ok, un altro posto dove andare è qui, alle rovine di Zamor. Ah, io ho i loro vestiti, quindi... È bellissimo il vestito loro, bellissimo, bellissimo. Proseguite da questa parte alle rovine. Avanzate più avanti, tanto qua sotto dobbiamo trovare un piccolo dungeon. Ok, siamo arrivati. Scendiamo qua sotto e apriamo questo baule e all'interno di questo baule troveremo un globo. Tutto qua. Un altro posto dove cercare... Questi posti sono molto semplici da trovare, proseguendo nella storia, come è qua la terra dei draghi. Basta andare qua al tempio del drago. Eccoci arrivati. Questo è il posto, il bellissimo posto che io preferisco moltissimo perché qua sotto c'è la mia Nemesi. I miei due Nemesi. Quindi qua sotto dovremmo sconfiggere due Sacri Terma, quindi quei due parassiti schifosi vestiti di bianco che non muoiono. Quindi per questo è la mia Nemesi, perché io... Eh, esatto, qua sotto. Sì, qua sotto. Sconfiggere questi due e vi daranno un globo e più o meno 150.000 rune. Tutto qua. Un altro posto dove cercare è alla terra di Kailet, nella Galleria di Cristallo di Selvia. Tanto questa è una galleria famosissima che tutti scoprono all'inizio, quindi proseguite da questa parte, salite alla scala, perché qua dobbiamo sconfiggere quel cane. Quel cane schifoso che non muore mai, come ben sappiamo non muore mai, fatto di pietra, e se lo ammazziamo ucciderà un bel globo. Un attimo che mi libero di questo schifoso. Perfetto. Qui apriamo le porte e troviamo il boss da sconfiggere. Tutto qua. E un altro globo messo nella tasca. Un altro posto dove cercare. E qui, vabbè, qui è un po' complicato perché una volta arrivati alla chiesa di Bellum, scendete qua sotto al burrone. Poi un'altra strada che dobbiamo fare è proseguire qua, perché qua c'è un fabbro, il gigante. Per la chiesa di Bellum, scendete, proseguite da questa parte, attraversate il fiume, proseguite per il fiume, salite qua sopra. E troverete il fabbro. Ecco il fabbro. Già, ecco il fabbro. Qui potete comprare le pietre, potete sbloccare le pietre. Adesso sta parlando della tizia Ranni. Già. Acquista, devo un attimo comprare questo stemma. Ecco le pietre. Vabbè, qua sono le pietre da comprare, ma io vi spiego anche come trovare i globi. Ok, sembra la capitale proprio qua, in questa zona, alla Galleria di Altus. Esatto. Eccoci arrivati. Proseguite da questa parte, mi raccomando, qua sotto dobbiamo sconfiggere i gemelli blu. Uno con la lancia, e un altro che lancia i dischi. Quello che lancia i dischi muore subito, subito. Quello con la lancia è un po' rompicazzi. Eh, che devo dire. Sta qua. Li sconfiggite. Basta. Avete trovato i globi, basta. Poi un altro globo... Un altro globo sta... Proprio qua, nella neve. Nei ghiacciai, qua, proprio qua. È l'ago ghiacciato. Se trovate questo punto, proseguite da questa parte, c'è un grande drago. Poi c'è la chiesa di Marika. Qui trovate anche la lacrima, quindi quelle che vi servono... Cioè, le lacrime vi servono per potenziare le ampolle. E proprio qui, sul cadavere, troverete il globo. Ultimo posto dove cercare... È sempre qua, la terra dei draghi. Mi sembra che questa sia questa la terrazza. Più avanti, sempre sul cadavere, troverete un globo. Quindi tutti questi globi... Eh, non dovete fare altro che andare alla tavola rotonda e darle... Cioè, dare tutti questi globi ai vecchi, ai scheletri. E si sbloccheranno tutte quelle pietre da forciatura. Eccoci arrivati. Qui sbloccheremo il globo più importante. Il globo per sbloccare la... Cioè, per sbloccare la pietra da forciatura funerea, livello 8 e livello 9. Sbloccare... Semplici. Sbloccare... 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Qua vi ho portato proprio qua perché qui appena sconfiggiamo questo grande, questo grandissimo drago che ha quattro ali, una volta morto ci darà la pietra del drago antico. Mi riferisco a quella normale, no? A quella bianca. Quindi sconfiggitelo e trovate quella pietra. Quindi ragazzi, grazie a tutti per questa visione, lasciate like se il video vi è stato utilissimo, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!